La Sidica Savellino ultima la preparazione in chiave Sassari. Domani alle 20.30 sarà big match con il Banco di Sardegna per la Scandone che lavora al Pala del Mauro con diversi campanelli d'allarme, ma anche qualche sorriso da leggere più in chiave futura. Dubbi legati all'utilizzo di Ragland che soffre ancora per il problema alla spalla sinistra e di Randolph bloccato in settimana da una febbre che non molla la guardia di Madison da Reggio Emilia e con altri acciacchi diffusi. Coach Stefano Sacripanti ha sì in più David Logan con possibilità di turnover, ma non mancano i grattacapi nel pre-gara. Dall'altra parte ecco la Dinamo Sassari pronta per la prima di tre trasferte consecutive tra campionato e Champions. Il team del coach GM Pasquini è cresciuto tantissimo dall'avvio di 2017, anche grazie ad interventi sul mercato che hanno ridisegnato in positivo il roster con un asse play pivot nato all'improvviso e subito produttivo, come quello tra David Bell, ottimo gestore per il gruppo, e Gani Laval, verticale di sostanza. Per Kirillofesenco saranno ancora straordinari prima del rientro, ormai prossimo di Marco Cusin. Gli ultimi controlli hanno praticamente consegnato il centro bianco-verdi allo staff tecnico della Scandone, felice di ritrovare il nazionale pronto a riproporre intensità e minuti importanti da qui al termine della regular season, nella corsa al miglior posizionamento in classifica prima delle battaglie play-off scudetto.